Musica Arriva il nodel Tara, la classe action su servizio idrico avanzata dal comitato acqua pubblica. I firmatari ricorreremo al consiglio di Stato. Dopo la frana sono tornati a casa gli sfollati di Livigno, sia la strada che il tunnel Montlaschera chiusi almeno fino a lunedì. Sindaci oggi a colloquio dal prefetto di Sondrio per impedire la chiusura del punto nascite di Chiavenna. Vogliamo, dicono garanzie per il territorio. Mirko Rovidatti, nuovo rappresentante di Albosaggia in comunità montana. Primi obiettivi, lo sviluppo dell'agricoltura e la filiera Bosco-Legno. Superlativo dell'Agostino dopo i due argenti di ieri, oggi agli europei un altro argento in C1 e un bronzo in C2. Buonasera, come avete visto in apertura di questa edizione del nostro giornale. La battaglia è intrapresa ormai due anni fa dal Comitato Acqua Pubblica contro la gestione del servizio idrico integrato provinciale. Bene il TAR, il Tribunale Amministrativo Regionale, ha bocciato la class action intrapresa con il sostegno di Conf Consumatori per un vizio di forma. Vediamo. Inammissibile, questo è il verdetto che mette la parola fine alla class action intrapresa nel 2016 dal Conf Consumatori di Parma, a sostegno e rappresentanza degli oltre 500 firmatari valtelinesi dell'azione di classe pubblica contro la scorretta, a loro avviso, gestione del servizio idrico integrato di ufficio d'ambito, provincia di Sondrio e società per l'ecologia e l'ambiente. E' questa la decisione assunta dal TAR, il Tribunale Regionale Amministrativo, che con una sentenza pubblicata ieri, rende attualmente vana la battaglia dello IAPS, il Comitato Acqua Pubblica, ingaggiata ormai tre anni fa. Nel 2015 il gruppo aveva avviato una petizione popolare sfociata nell'attuale class action. Tre punti contestati, tariffe idriche troppo elevate e quote fisse da rimodulare, oltre che contrarietà all'obbligo di installazione dei contatori e mancanza di standard di qualità nella carta dei servizi. Tematiche nel merito del quale il TAR non è assolutamente entrato, contestando invece uno solo dei quattro punti inoltrati da chi si è costituito in giudizio, ovvero ATO, provincia e SECAM, la mancanza di legittimazione attiva dei consumatori di Parma. In sostanza l'associazione ha peccato nell'impostazione del ricorso, non dimostrando che stava agendo a favore dei tesserati di Sondrio. L'ufficio d'ambito si è difeso nel merito, spiegando i motivi di tutte le scelte compiute e contestate dalla Conf. Consumatori. Inoltre erano state sollevate quattro eccezioni di ammissibilità, per secondo noi vizi nel procedimento amministrativo della class action e poi del ricorso. Al Tribunale è bastato uno solo di questi motivi per dichiarare inammissibili il ricorso. Stupiti se non sconcertati i rappresentanti del Comitato Acqua Pubblica, che non avendo personalità giuridica si sono dovuti avvalere dall'aiuto di Conf. Consumatori. Nella sentenza si evince che il TAR non da ragione ad ATO, SECAM e provincia, né tanto meno da torto a noi spiegano, ma si sono semplicemente soffermati su questo vizio di forma. Conf. Consumatori di Parma avrebbe dovuto dimostrare di avere dei tesserati a Sondrio, che tra l'altro ha, allegando il relativo certificato. Il gruppo si definisce basito nel non essere stato nemmeno preso in considerazione dopo due anni di ITER, ma è deciso più che mai a proseguire la sua lotta in difesa dei cittadini. A breve, nonostante l'inconvenza di Ferragosto, il Comitato si riunirà per decidere la prossima azione, che con tutta probabilità sfocerà in un successivo recorso al Consiglio di Stato. Hanno fatto ritorno a casa gli sfollati, che erano stati costretti a lasciare le loro abitazioni in località Vallaccia di Livigno, nella frazione di Trepale, in seguito allo smottamento alle violente bombe d'acqua di mercoledì sera, colate di detriti e maltempo, che hanno interessato anche la strada del Tunnel del Gallo, dove si sta lavorando a pieno ritmo, per liberare il prima possibile la carreggiata, ma naturalmente ci vorrà qualche giorno. Vediamo. Hanno potuto fare rientro nelle proprie case già da ieri sera i 14 sfollati evacuati in via precauzionale dalla località Vallaccia di Trepale, in seguito alla frana ascesa a Valle lo scorso mercoledì, poco prima delle 22. L'improvvisa bomba d'acqua che si era abbattuta sulla prazione di Livigno aveva provocato un successivo smottamento di materiale roccioso dal versante sovrastante alla strada che conduce al Tunnel del Gallo e che affianca il lago artificiale. Qui, a causa dell'impraticabilità dell'unica via, erano state recuperate con l'ausilio di un gommone dei Vigili del Fuoco di Livigno altre 19 persone, precisamente i turisti, che stavano cenando presso il ristoro Fopel, situato proprio sulla via che porta al confine svizzero. Attualmente sia la strada che il Tunnel munte alla schera resteranno chiusi al traffico almeno fino a lunedì, giorno per il quale è previsto un nuovo aggiornamento sull'ordinanza emessa mercoledì sera dal comando della Polizia Locale. Il sindaco Damiano Bormonini assicura che i lavori per lo sgombero del materiale, affidati ad una detta esterna per conto del Comune, stanno procedendo a pieno ritmo, sia a Livigno che a Trepale. È difficile dare una stima tempistica sulla conclusione degli interventi, spiega il primo cittadino, ma certamente non avverrà prima di 7-8 giorni. Livigno rimane comunque regolarmente raggiungibile attraverso il passo del Foscagno e del Forcola. Regione Lombardia con una delibera della Giunta ha deciso di impugnare in sede di Consiglio di Stato la sentenza del TAR a riguardo ai fanghi di risulta degli impianti di depurazione. La notizia, come noto, ci riguarda da vicino a seguito della sentenza che abbassa notevolmente le soglie di idrocarburi ammessi nei fanghi per l'agricoltura. Più di 3.000 tonnellate di questi fanghi a settimana potrebbero non essere più accolte dall'azienda di trattamento per l'agricoltura. L'obiettivo che il Pirellone vuole raggiungere tramite il dialogo col Ministro dell'Ambiente Sergio Costa è un decreto che possa risolvere e sbloccare questa situazione di stallo. Intanto non si placa la bufera sulla chiusura del punto nascite di Chiavenna. Questa volta a far sentire alta la loro voce sono i sindaci della Valle del Mera che oggi hanno incontrato il prefetto di Sondrio. I sindaci della Val Chiavenna non ci stanno la chiusura del punto nascita. Quest'oggi alle 18 i rappresentanti delle amministrazioni della Valle del Mera hanno incontrato il prefetto di Sondrio Giuseppe Mario Scalia per esprimere tutte le loro preoccupazioni rispetto alle prospettive non solo del centro dedicato per i nascituri ma in linea generale sul futuro del presidio sociosanitario Val Chiavennasco che a loro avviso sta inesorabilmente perdendo i pezzi. Dopo un incontro intercorso con gli assessori regionali al welfare Giulio Gallera e alla montagna Massimo Sertori nel corso del quale i primi cittadini non hanno potuto replicare alla scelta presa dal Pirellone di salvare il punto nascita di Gravedone e non quello che avvennasco forte il primo di 333 parti l'anno contro i 108 del secondo i sindaci si affidano ora al funzionario del governo affinché possa farsi portavoce delle loro preoccupazioni. Nel frattempo sale la protesta dei cittadini emblematico il caso di Gianni Scaramella di Gordona che ha deciso di incatenarsi di fronte all'ospedale per esprimere tutto il suo disappunto rispetto alla risoluzione. Da diverso tempo, da alcuni anni ci stiamo occupando quotidianamente dell'ospedale perché crediamo sia un presidio fondamentale vivere in montagna richiede di avere i servizi essenziali e questo è uno di quelli. Abbiamo approvato all'unanimità in tutti i consigli comunali, nell'assemblea di comunità montana il manifesto dei sindaci costruito anche grazie al confronto con la popolazione dove diciamo quelli che sono i servizi essenziali all'interno dell'ospedale. Ora ci troviamo con una scelta non condivisa per cui chiediamo al prefetto che è rappresentante dello Stato di appoggiare questa nostra iniziativa che continua a nome dei cittadini per fare in modo che Chiavenna possa continuare a offrire a tutta la valle, a tutti i suoi cittadini i servizi sanitari essenziali per dare la serenità di vivere in un territorio come il nostro. I sindaci, così come i membri del Comitato insieme per l'ospedale di Chiavenna manifestano tutto il proprio scetticismo rispetto al funzionamento della collaborazione proposta dalla Regione tra le realtà di Gravedone e Chiavenna. Il presidio dell'Alto Lago presterebbe unità operative quando necessario a quello della Valle d'Almera garantendo così la continuità delle parti del centro chiavennasco. La modalità ovviamente non spetta a noi chiediamo che in Val Chiavenna ci sia un riferimento spedaliero che dia risposte concrete ai cittadini. 134 violazioni accertate dalla Polizia Stradale a carico di autisti professionali. È il bilancio che gli agenti del Comando di Sondrio e del distaccamento di mese hanno dopo aver effettuato controlli imposti nel periodo estivo, nello specifico, nel mese di luglio. L'infrazione principale della categoria è in questo caso l'innosservanza dei tempi di guida e di riposo. Ben 43 pensati verbali nel giro di 30 giorni. Seguono, seppur in modo molto più limitato, l'inefficienza o alterazione dei dispositivi di equipaggiamento dei veicoli con 17 casi, il superamento del limite di velocità 10 episodi e 8 omesse revisioni del veicolo. Solo un mezzo è stato trovato sprovvisto della copertura assicurativa così come un altro invece. Non aveva l'autorizzazione di trasporto in conto terzi. Quattro medaglie in due giorni. Dopo il doppio argento di ieri, oggi il canoista valtellinese Giorgio Dell'Agostino ha conquistato nuovamente il podio per ben due volte agli europei in corso in Macedonia. Questa volta bronzo e argento al collo del campione cresciuto sul fiume Alta. Vediamo. È Mirko Rovedatti il nuovo rappresentante per il comune di Albosaggia presso la comunità montana Valtellina di Sondrio. Per l'ingegnere trentenne che subentra a Dario Ruttico, la nomina segna la prima esperienza nell'ambito dell'organismo comprensoriale. Agricoltura di montagna e filiera Bosco Legno, due importanti canali dell'indotto economico dell'area territoriale alle porte del capoluogo che ben si combinano al problema occupazionale giovanile. La risorsa Bosco segna, per Rovedatti, un'importante chiave di volta. Il mio compito è la rappresentanza del comune di Albosaggia in comunità montana e far sentire la voce dei miei compaesani in comunità montana per avere un'efficienza massima di collaborazione. Altro, ma non secondario proposito per il neoeletto, il capitolo legato all'ottenimento dei fondi regionali finalizzati al rilancio dei piccoli comuni. Beh, noi condividiamo il pensiero del Presidente Maffezini degli investimenti sull'agricoltura e sui nostri boschi perché abbiamo un patrimonio culturale alpino e abbiamo molto da dare ai ragazzi con i nostri boschi. Possiamo dare lavoro ai nostri ragazzi senza bisogno di mandarli in altri posti. Bisogna solo trovare il modo per fare sbocciare tutto quello che è la nostra zona montana. Non era evidentemente il servizio che vi ho annunciato poco fa. Si trattava dell'intervista al nuovo rappresentante del comune di Albosaggia in comunità montana. Torniamo adesso allo sport, dunque a questa bella performance del nostro Giorgio dell'Agostino che dopo le due medaglie di ieri agli europei di Scopio e Macedonia oggi nuovamente è salito sul podio. Un bronzo ed un argento. Secondo giorno di gare, altre due medaglie inarrestabile Giorgio dell'Agostino il valtellinese pluricampione della canoa fra ieri e oggi trascinatore degli azzurri e della squadra della discesa agli europei di Scopie. A lui che ieri ha sgretolato lo strapotere del team della Repubblica cieca con ben due argenti va oggi il merito di aver contribuito in modo determinante ai due podi conquistati nelle gare a squadre. Un argento nella prova C1 dietro alla Germania e davanti alla Francia ha portato a casa insieme a Mattia Quintarelli e Giacomo Bianchetti sulla lunga distanza e un bronzo nel C2 dietro a francesi e cechi. Insomma l'ottima forma e la determinazione sfoderate ieri nell'individuale che lo ha visto aggiudicarsi il titolo di vice campione europeo sembrano replicarsi. Dell'Agostino porta colori della Davì forte di una minuziosa preparazione sulle rapide di Piateda rimane concentrato e guarda dritto davanti a sé. Domani dal ritmo della classica si passa alla sprint la gara veloce su poche centinaia di metri nella quale serve sprigionare tutto in una manciata di secondi. Una specialità meno congeniale ma altrettanto amata per l'azzurro sondriese che, comunque vada, ha già messo al sicuro quattro medaglie confermandosi ancora una volta il primo e l'unico ad oggi a fare tanto nella storia degli sport fluviali in provincia di Sondrio. Dall'acqua alla montagna più che mai gettonate mentre si avvicina il clou delle vacanze estive le gite e le escursioni ad attrarre residenti e turisti il fascino di luoghi incantati e lavorazioni fuori dal tempo. Allora saliamo anche noi in quota alla scoperta degli alpeggi. Non è una semplice escursione piuttosto il nostro, un vero e proprio viaggio dentro una realtà che pur senza voler dare lezioni o forse proprio per questo può insegnare qualcosa. L'alpeggio è un mondo nel quale le interviste sono superflue o almeno così la pensano al nostro arrivo i pastori che trascorrono l'estate qui in Val Poschiavina a oltre 2200 metri di quota. Non servono parole, il pascolo parla basta saper ascoltare perché oggi dice uno di loro scuotendo la testa si parla troppo e si ascolta poco. Nel silenzio il suono proviene da 45 vacche di cui la metà da latte. La maggior parte appartiene ai due fratelli Mario e Antonio Nana che insieme agli altri alpeggiatori di Lanzada ogni anno portano fin quassù e addirittura oltre spingendosi verso il passo di Canciano anche 80 pecore e 50 capre. Si arriva a fine giugno e si riparte i primi di settembre e così sarà finché ci sarà qualcuno che ama questa vita mai disgiunta dal lavoro. Il clima in questa estate un po' in ritardo è paradossalmente perfetto dopo le stagioni troppo calde o siccitose. L'erba è fresca e ce ne sarà per tutto il periodo di permanenza del bestiame che via via si alzerà di quota. Il cotico è sano gli animali concimano tutto si compie in modo naturale. Come l'acqua che solca questa conca incantata il ciclo della produzione casearia dell'Alpe scorre da secoli in un tempo in uno spazio perfetti anche nel loro essere lontanissimi dai consueti ritmi del quotidiano. Per le baite costruite dai pastori ma tutte di proprietà comunale si paga una sorta di affitto tecnicamente una fideiussione 1250 euro ogni 5 anni. Chi lavora nella casera è naturalmente in regola con i bollicee ma nel rispetto delle normative le procedure restano rigorosamente fedeli alla tradizione. Uomini e animali collaborano alle varie fasi della lavorazione inclusi il mulo, il cavallo, i cani addestrati a gestire mandri e greggi. Qui, a differenza che altrove si munge rigorosamente a mano. La scelta di passare alla mungitrice non sembra negoziabile nemmeno in futuro. È più semplice, spiega Mario non serve il generatore, non si inquina non c'è bisogno di portare materiale con l'elicottero, si contengono i costi e non da ultimo le bestie stanno meglio. Ci bastano secchio e sgabello, taglia corto non abbiamo bisogno di detersivi, acidi, gas e tutto il resto per pulire una macchina che munga il nostro posto. E non si guadagnerebbe certo di più, aggiunge anzi, il nostro guadagno sta anche nel risparmio sia sulle spese che sulle complicazioni. Le vacche producono da 10 a 15 litri di latte al giorno ciascuna due mungiture le prime settimane vicino alla casera poi man mano bisognerà camminare fino ai pascoli più in alto. Quando taglieremo le prime forme? Tra due mesi, più o meno, sì. Quindi sapremo qual è stato il risultato del lavoro fatto? Esattamente. Lì, ma comunque quest'anno è abbastanza favorevole per voi? Ma sì, partite un po' tardi la stagione però l'erba ci sta, è bella. La sveglia suona alle 3 e mezza si cammina in salita con il mulo e una volta sul posto ci vogliono almeno due ore per mungere. Alle 6, quando il resto del mondo dorme ancora qui si torna già alla casina con il latte che viene depositato nelle conche tenute in fresco dall'acqua e dalla roccia mentre si caglia subito quello munto la sera precedente per farne burro e formaggio. Così ogni giorno, ogni sera e ogni notte fino alla fine d'agosto. Un tempo denso e lieve al tempo stesso nel quale da una parte affiora la panna dall'altra il formaggio comincia a stagionare. Le forme rimarranno qui fino ai primi di settembre quando a malincuore, specificano i pastori il periodo più bello dell'anno finirà. E le ferie, le vacanze o una pizza il sabato sera? Le pare che abbiamo bisogno di tutto questo non serve altro quando si ha la fortuna di avere un lavoro che è già una vacanza tutto l'anno. Aveva ragione il pastore qui non c'è bisogno di interviste parla il Pascolo. Nuovo atto per la valorizzazione del Parco Nazionale dello Stelvio oggi pomeriggio è stato siglato un protocollo tra Regione Lombardia e la dirigenza dell'area protetta per la riqualificazione del Passo Gavia. Il primo passo è già stato compiuto in giornata presentando al pubblico il progetto che prevede l'implementazione di sei percorsi multimediali che si snodano proprio nella omonima valle. attraverso lo smartphone sarà possibile ascoltare i racconti di vicende e testimonianze storiche risalenti alla Prima Guerra Mondiale ripercorrendo i sentieri una volta battuti dai soldati. Migrazioni, fenomeni a doppio senso soprattutto in Valtellina e se in questi mesi si parla molto dei flussi di entrata non bisogna dimenticare quanti hanno dovuto e devono ancora oggi andarsene da questa terra per trovare un lavoro. L'emigrazione, un tema che domina le prime pagine dei giornali vista al contrario. La Valtellina è stata da sempre una terra in cui il fenomeno si registra da secoli. Già alla fine dell'Ottocento a Tirano c'era un organismo che si occupava di facilitare le operazioni di espatrio degli abitanti di tutta la valle in cerca di maggiore fortuna all'estero. All'epoca, ogni anno, erano in circa 7.000 a lasciare la propria terra. Una tendenza di sicuro diminuita nel tempo con degli alti e bassi e con flussi migratori numerosi e mutevoli. Certo, oggi non si lascia più la provincia come in passato, ma c'è ancora chi parte. Australia, il 20% della popolazione di Perth, ad esempio, viene proprio dal tiranese, Nuova Zelanda, Argentina, ma anche i più vicini Belgio, Germania e Svizzera. Nelle ultime settimane il focus dei mass media è maggiormente incentrato sui flussi in entrata che generano spesso e volentieri violenza e xenofobia. La memoria storica però ci viene in soccorso ricordandoci cosa si prova ad essere discriminati quando si è costretti a trasferirsi lontano dalla propria casa alla ricerca di una vita migliore. Sono nata a Tirano 83 anni fa. A 18 anni sono andata in Belgio che avevo due fratelli e mi occupavo di far da mangiare. Però sono stata a Chalet-Roy, il paese esattamente l'Ambussar. Sono stata accolta bene dai Belgi e allora erano ancora più poveri di noi italiani. La gente ce n'era poca che si chiamava Shinkes. Era una parolaccia. Comunque lo pronunciavano con disprezzo. Sono niente in Australia. I genitori di Tirano che si sono conosciuti là si sono sposati e sono nata io e ero impegnata all'ospedale generale. Anche i nostri valentinesi sono andati via. Erano foresti anche loro. Fortunatamente secondo gli intervistati quelli di discriminazione sono episodi isolati e in via di diminuzione. Testimonianze davvero straordinarie era il nostro ultimo servizio. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di serata. Arrivederci. per te donna che cerchi nella moda uno stile davvero personale c'è New Probabile Donna la boutique di Sondrio in Diamazzini 15 dove puoi creare il tuo look al di fuori delle tendenze e correnti dilaganti. New Probabile Donna D'Anni è il punto di riferimento per chi ama una moda semplice con un tocco di glamour un'eleganza decisamente sofisticata con la passione per la ricerca del dettaglio e della qualità New Probabile Donna Abbigliamento Borse Accessori e calzature a Sondrio in via Mazzini 15 Immaginari l'idea che non avevi in testa a Sondrio in via Bonfadini 9 barra zona stazione orario continuato dalle 9 alle 19 giovedì aperto fino alle 21 appuntamenti allo 0342 03 12 35 035 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